Con chi avrei dovuto parlare se non con il personaggio politico che in questi 20 anni ha creato Forza Italia e anche ricreato Forza Italia. Questo accordo di oggi, oltre a restituirci la faccia con i cittadini, ci permette di superare la subalternità culturale nei confronti di Berlusconi e di superare il diritto di veto dei partiti. Forza Italia